Sono 3.309 abitanti sui complessivi 4.507 che popolano Gragnano Trebbiense ad essere chiamati tra poco più di due settimane alla scelta del nuovo sindaco del paese. Anche nella piccola cittadina Trebbiense è duello, si sfidano infatti Patrizia Calza e Gianpaolo Crespoli. Per entrambi una vasta esperienza politica alle spalle maturata nel corso degli ultimi anni. Patrizia Calza, 52 anni, è l'attuale vice sindaco ed è sostenuta dalla lista solidarietà e sviluppo per Gragnano. Professione avvocato e insegnante in un istituto superiore di Borgonovo. Ha ricoperto in passato il ruolo di assessore provinciale ai lavori pubblici nella giunta Boiardi. Hanno deciso di appoggiarmi anche persone giovani, nuove, però già capaci, competenti e già impegnate all'interno della loro comunità. Noi di solidarietà e sviluppo qualche sogno ne abbiamo, un nuovo centro culturale, un centro sportivo polifunzionale. Penso che con le competenze della squadra e con le premesse che l'attuale amministrazione ha già posto in essere, i sogni possono diventare realtà. Scelgo Gragnano è invece il gruppo che sostiene Giampaolo Crespoli, 55 anni, dipendente del Ministero della Difesa, che vanta già una doppia esperienza da primo cittadino di Gragnano, oltre ad aver frequentato i banchi del Consiglio del Comune di Piacenza per una legislatura. Il programma elettorale verte su quattro punti, la sicurezza, il sociale, la famiglia e lo sviluppo economico. Soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e lo sviluppo economico faremo delle azioni concrete per fare in modo che Gragnano diventi un paese più sicuro e che ci siano posti di lavoro in prospettiva.